Sì, abbiamo un po' dei souvenirs, un po' dei souvenirs di Guglia. Mi ricorda che il mio padre era un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. Quando erano la nonna, le vediamo, abbiamo detto che erano molto pieni, erano i rivelati. E quindi, abbiamo cominciato. Come abbiamo già detto prima, non abbiamo mai cominciato. Non c'erano come un po' di un po' e uno non va a fare un po' di un po' e un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. a dire con mio papà parire perché c'è un uomo che mi ha fatto il giro, che va tutto a dobbò, sai? E che? E l'Ità, l'Ità, è vellato un po' a che un po' a vellato, ma è pregno il freddo, è sorti andato fuori, e poi l'occhiarda del mezzo è creare un po' un po' e lo dame, blagacavano, qui par nella zona della regione, corrigi o, corvo. E non, profite davanti per un granio della pizzeria e in grado della mondia, e tirando dove le fai delle qualità della mondia, e che s'occupe avanti del mezzo è un po' a molto piaciuno, che mi manchia tranquillo. e faccio due come un sacco che è un bullo sull'amico. Mi piaceva bene vedere il suo, il lunù, il tammè dei sain d'alme, che è un plazio che è talamente dolce e plaziente di vedere che il suo è stato là, che è vero. L'onuè, per me, e ben, a un mio figlio, che è il plazio di un l'onuè, che è tutto, che è tutto, ma donna ciò, e ben, per le dire, fanno parlare, come ne fanno tutto. L'onuè, quando il richiede l'illusione, noi diciamo che è l'illusione, noi diciamo che è l'illusione, l'illusione, noi diciamo che è l'illusione dell'illusione. E l'onuè, quando mi diciamo che è l'illusione, un coparo mai lo sembrano, lo sembrano, e che è l'illusione, che è l'illusione, che è l'illusione che è l'illusione, che è l'illusione, che è l'illusione che è brillante. e tutto range. Allora ce che mi intriguai è cosa che mi disprono, è l'illusione di trardi. Un paio mi diceva un fuoco. PU入 non dispone a qui voilà noi veniamo a qui nel Kelo Meizu nel 1983 e abbiamo una televisione e in Toulousei noi sortiamo per vizie al Luciano e qui come vengono piccoli e piccoli e piccoli ci sono sempre dei giovani in Luciano che è breve e qui è Cassiope che è un W che è un W e per l'Uguia che è il M di McDonald's la località di Luciano qui è buono ha avuto circa 3500 luni a l'Imozzei 50 e a l'Imozzei 10 solo 10 di l'Imozzei l'Uguia è un po' di un po' di un po' di un po' di Luciano ancora dopo arriviamo e ci mangieri ragazini si ai Grazie a tutti.